Benissimo, benvenute e benvenuti a questo dialogo che fa parte del programma della mostra Exposure. Exposure è una mostra che tratta il tema della vetrina, ovvero di un dispositivo museale che è finalizzato alla conservazione ma è anche molto di più di un oggetto che serve a prolungare la vita di quanto viene contenuto. È un oggetto che ha un valore simbolico, la vetrina, ha un valore ovviamente anche di protezione e di dissuasione dai furti. È un oggetto pensato e nato nel museo che è sostesso un dispositivo di natura prettamente occidentale e che quindi in un luogo come questo, in un museo delle culture non europee, assume anche un valore particolare che si stratifica e si assomma a quanto noi mostriamo. La mostra Exposure cerca di approfondire tutti questi aspetti, tutta la possibile valenza del dispositivo della vetrina e uno di questi aspetti è quello della protezione e della dissuasione dai furti. Ma quando si parla di furti in un contesto come questo non è necessario pensare a più punti di vista e quindi il titolo di questa conversazione si chiama appunto Chi ruba a chi. A questo proposito abbiamo invitato Michele Minetti che è capitano appena nominato del nucleo tutela beni culturali di Monza e Massimo Osanna, direttore generale musei per il ministero dei beni culturali. Carlo Antonelli modererà questo incontro, io in qualche modo mi aggiungo laddove possa essere necessario e aggiungo anche che questo è un tema che è evidentemente eliminare a tutta un'altra serie di temi, l'incontro successivo sarà quello che toccherà il discorso dei resti umani che però anch'esso in qualche modo e penso che emergerà nella discussione tocca la questione anche appunto del furto, della proprietà, del titolo di proprietà che si possa avere su questo tipo di oggetti. Bene, con questo do la parola a Carlo e iniziamo. Facciamo subito una domanda, ma al di là della scomodità delle sedie che porta ad una certa rilassatezza, diciamo, faccio una, se riesco, una prima domanda al dottor Osanna che è questa. Cioè, stante il patrimonio artistico italiano, e stante, e vorrei che lo dicesse lei, il numero di musei che esistono in Italia, il patrimonio esposto da questi singoli musei e ciò che invece sta nei depositi, anzi, questa è la domanda. Qual è? Così poi proseguiamo. Può usare quello? La domanda, la risposta è facile, i musei nazionali, quindi quelli che sono di diretta competenza dello Stato e quindi del Ministero della Cultura, direzione generale dei musei, sono 492. Ovviamente si tratta di gallerie, pinacoteche, parchi archeologici, castelli, palazzi storici, giardini storici e, secondo un censimento fatto da poco, in questi musei nazionali i reperti esporti sono circa 500 mila in deposito e sono il 10% di quello che invece è in deposito. Ovviamente in deposito sono più o meno 5 milioni. Solo il Museo delle Civiltà, che è un museo gemello, diciamo, del MUDEC dove ci troviamo oggi, ha 2 milioni di reperti in deposito. Ovviamente non tutto è esponibile o sarà esponibile, però... E nonostante ciò, quanti più o meno ce l'hanno rubati? Questo ovviamente daremo la parola al Capitano, che è ben più informato di me, però io posso dire anche da archeologo che l'emorragia di reperti archeologici finiti all'estero probabilmente sono centinaia di migliaia, se non milioni, perché basta andare in qualunque museo d'America o d'Europa, anche collezioni universitarie di prestigiose università europee, i pezzi che vengono dall'Italia sono tantissimi. Alcuni esportati recitamente, prima del 1909, quando poi una legge impedì il trasferimento all'estero di beni di proprietà dello Stato e i beni archeologici sono stati subito recuperati sottoterra, tutto quello che viene dalla terra o anche sott'acqua appartiene allo Stato e quindi non può essere esportato. Quello che dopo il 1909 è stato esportato all'estero, generalmente lo è stato esportato illecitamente e in questo, lo dirà il Capitano, il lavoro dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio è straordinario, il loro database tra l'altro impressionante, loro hanno ben chiare le idee. Infatti Capitano, come siamo messi? Sì, allora per rispondere puntualmente alla domanda, mi sono portato degli appunti. No, diciamo una cosa che forse è necessaria, il Capitano Minetti è stato nominato da pochissimi giorni, diciamo. Sì, mi sto affacciando, vengo da altre esperienze professionali del normale percorso professionale di un ufficiale d'allarma, quindi altri reparti speciali dell'allarme territoriale e ora mi sto affacciando al mondo dell'arte. Quindi abbiamo costretto a documentarsi molto rapidamente. Chiaramente, insomma, posso essere preciso sui dati, senz'altro, grazie al database che nominava il direttore Pocanzi. Dal 1969, quindi la data di costituzione del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che all'epoca si chiamava tutela del patrimonio artistico, sono stati recuperati 3 milioni e 197 mila beni culturali, che sono tantissimi. Di questi sono oltre un milione sono reperti di natura archeologica. Noi possiamo dire questo perché nel 1969, quando è stato costituito il nucleo tutela patrimonio culturale, è stato istituito un database, il primo al mondo, che tuttora è in funzione ed è il più vasto, il più ampio a livello mondiale, nel quale sono catalogate tutte le opere d'arte asportate, tutte le opere d'arte o i beni culturali, con i quali entriamo in contatto nel corso della ordinaria attività d'istituto che facciamo. Ecco, quindi questi sono dati. Mi ricordo però che a un certo punto addirittura con i soli beni ed oggetti che sono stati reperiti in questo modo, avete costruito una mostra, un ricordo male. Non solo una mostra, ma è stato creato a Roma un museo dell'arte salvata. In uno degli spazi che appartengono al Museo Nazionale Romano, presenti a Piazza Sedra, la Rotonda, è stato allestito proprio in collaborazione con il comando dei Carabinieri, una mostra dove abbiamo esposto per la prima volta a Roma insieme tutto un nucleo di reperti straordinari che erano stati restituiti dagli Stati Uniti, grazie al loro lavoro, e con l'idea quindi di, l'abbiamo creato questo museo, l'idea di esporre per qualche mese a Roma tutto il contesto insieme di reperti che vengono dall'estero, i nuclei, i lotti di materiali che incessantemente ritornano, e poi, grazie ad un tavolo istituito presso il Ministero, riattribuiamo ai territori di provenienza quei materiali. Spesso è difficile, perché a volte ci sono i loro dati, i dati delle indagini, che ci dicono da dove, anche precisamente, da dove è stato scavato quel vaso, quella statua, quell'oggetto. In altri casi non abbiamo assolutamente dati, il contesto è perduto, in quel caso noi lavoriamo da archeologi sull'attribuzione. Lo stile spesso ci permette, in alcuni casi, di essere molto sicuri. L'equazione stile-provenienza è molto rischiosa, però in questo caso, faccio un esempio, le tombe dipinte di Pestum si usano solo a Pestum, quindi viene di lì, non ci sono dubbi, e quindi vengono restituite, oppure certe ceramiche molto particolari di alcuni territori di Magna Grecia, si sa bene dove sono prodotte e hanno un'area di circolazione molto ridotta. Più difficile, per esempio, le ceramiche attiche, che erano, in questo network mediterraneo, erano fatte di mobilità di uomini di Occetti, erano richiesti dovunque, dall'Etruria, dalla Magna Grecia, ai popoli italici, quindi spesso è più difficile. Molte volte vengono dall'Etruria, perché i luoghi saccheggiati, per eccellenza, sono Cerveteri e Letrutta, Arquinia, i tombaroli sono lì, nella Puglia, soprattutto quella settentrionale, la parte dei Foggia, che è stata saccheggiata veramente fra anni 80-90, e poi l'area Vesuviana, ovviamente, Pompei dove proprio anche di recente siamo riusciti ad arrivare prima dei clandestini, salvando questo carro cerimoniale, che poi ha avuto grandi riscontri mediatici, perché era tutto decorato di bronzo e d'argento, ed è stato un grande successo, fatto quello... Era il mio precedente lavoro, quando ero a Pompei, ma questo con un'altra collaborazione strettissima, oltre che ovviamente con i carabinieri, con la procura di Torre Annunziata, perché io dico sempre che bisogna fare rete sul territorio, fra le istituzioni che operano nel territorio, altrimenti senza fare rete non si arriva a risolvere nessun problema. Lì, con la procura di Torre Annunziata, che aveva, nel corso di sue indagini, intercettato informazioni su scavi clandestini in una villa fuori Pompei, si è deciso di fare uno scavo ad hoc per cercare di salvare il salvabile, ma anche di rintercettare dati per loro, per le indagini, che sono stati talmente significativi che hanno portato a un processo e a una vittoria dello Stato in primo grado, con la condanna dei clandestini, dei tombaroli. Volevo chiedere al Capitano, quali sono gli strumenti, diciamo che, baralmente, celle telefoniche o dati, hanno consentito in qualche modo di avere una maggiore capacità di tracciabilità dei beni rubati o trafugati? Diciamo che le indagini per il contrasto alla violazione di norme in materia di beni culturali avviene con le modalità con cui si conducono le indagini tradizionali. Quindi c'è tutto il campionario di analisi dei tabulati, pedinamenti, osservazioni, analisi dei documenti. non cambia molto il tipo di attività. In questo senso ci viene incontro la legge del 2022 che ha recepito le indicazioni della Convenzione di Nicosia del 2017 per cui tutta una serie di reati che erano contemplati dal Codice dei beni culturali sono stati assorbiti dal Codice Penale dove è stato individuato, creato proprio un titolo apposito per la tutela dei beni culturali nel quale sono indicati tutti i reati contro il patrimonio culturale nazionale e in parte anche straniero con un'elevazione delle pene dittali e questo ha fatto sì che anche nelle indagini in materia di beni culturali potessero essere utilizzati gli strumenti come per esempio le intercettazioni telefoniche le operazioni sotto copertura l'allestimento di siti civetta per il contrasto ai fenomeni predatori. Che cos'è l'allestimento di siti civetta? Siti di copertura dove si può interagire con venditori e compratori di opere d'arte sospette. Oltre a essere l'Italia e il suo patrimonio ovviamente vittima di questo tipo di situazioni c'è anche il discorso opposto che per noi musei etnografici è un problema di primo rilievo perché nel caso di donazioni o di acquisizioni per esempio dobbiamo verificare che l'origine, la provenienza eccetera rispondono a tutta una serie di criteri. E quindi poi c'è la questione delle restituzioni che è particolarmente problematica proprio in virtù anche del nostro codice ma ci sono degli esempi molto noti. ci potresti spiegare in che modo l'Italia che ha uno dei codici probabilmente più rigidi nei confronti dei beni culturali ha affrontato o può affrontare un eventuale discorso relativo alle restituzioni? Sì, il discorso ovviamente il flusso di come dire, di reperti in uscita è incomparabilmente superiore a quelli eventualmente in entrata o che sono entrati soprattutto a causa del nostro passato coloniale. un passato coloniale una storia non così come dire significativa come per altre nazioni però ha prodotto tutta una serie di di reperti. Ma negli anni 80 si è iniziato in Italia molto precocemente a discutere sulla necessità di restituire soprattutto alcuni oggetti simbolo delle culture delle aree colonizzate pensate all'Africa e così si cominciò con già negli anni 80 se non sbaglio era l'85 restituendo all'Albania la dea di Butrinto Butrinto è un bellissimo sito archeologico nel sud dell'Albania poco sopra la Grecia e si restituì già allora questa scultura e dopo ce ne sono state tutta un'altra serie la famosa stele di Aksum che è stata restituita all'Etiopia nel 2005 credo fosse il ministro Rutelli in quel momento e dopodiché per esempio l'altra statua di Cirene restituita alla Libia l'Afrodite di Cirene ovviamente tutto questo da un lato non è una recuperazione facile nel senso che c'è tutto un dibattito dietro perché gli oggetti hanno una biografia acquisiscono una biografia anche nel luogo in cui poi sono arrivati pensiamo al Museo Egizio di Torino con tutte le antichità egiziane sono lì dall'Ottocento hanno avuto una vita molto significativa in quell'istituzione quindi difficile di resto restituiamo tutto anche perché poi lì sono uscite come dire non illegalmente dall'Egitto ma quando si poteva acquisire ovviamente in una situazione particolare eccetera però al di là di questo quindi sul fatto anche che cosa restituire come che cosa è giusto restituire c'è il problema dal punto di vista giuridico come affrontare la questione perché una volta immessi nel patrimonio dello Stato il patrimonio dello Stato è inalienabile quindi questo per esempio ci siamo trovati recentemente in una situazione del genere quando si è deciso di restituire alla Grecia che tra l'altro è stata un'operazione dal punto di vista anche simbolico di grande portata si è restituita al museo dell'Acropoli ad Atene un pezzo di una un pezzo del fregio del famosissimo fregio filiaco del Partenone voi sapete che da decenni la Grecia reclama i marmi Elgin arrivati all'inizio dell'Ottocento a Londra che sono esposti al British Museum ovviamente quello nostro che faceva parte della collezione Fagan quindi arrivato già nel Settecento in Italia era un pezzo legittimamente come dire posseduto però si è deciso anche per una questione di diplomazia culturale di restituirlo alla alla Grecia e ovviamente quindi innescando un bel dibattito perché era la prima volta che si restituiva un pezzo di questo complesso incredibile che è il Partenone una delle opere più dell'antichità che aveva una sua unità una armonia nell'unità che invece adesso è disperso in vari musei non solo il British ma anche altri altri musei per esempio il Louvre di Parigi quindi restituire in quel caso è stato di grande effetto ricordo quando sono andato ad Atene la ministra piangeva proprio perché era una cosa eclatante che tra l'altro riapriva le loro richieste che cosa abbiamo dovuto fare in quel mondo tutta una procedura dal punto di vista amministrativo e giurisprudenziale molto complessa perché bisognava sdemanializzare l'oggetto quindi alienarlo dal patrimonio dello Stato prima di l'idea era anche più complessa perché c'è poi tutta la legislazione regionale perché essendo la Sicilia una regione autonoma c'è anche quello quindi complicava un po' ci abbiamo messo un annetto alla fine con un decreto ministeriale si è arrivato appunto alla sdemanializzazione quindi alla consegna perché all'inizio si era pensato di optare per una formula che si può fare 4 anni più 4 anni cioè dei prestiti a lunga scadenza questo è legittimo e si fa senza sdemanializzare e spesso si fa in questo caso invece bisognava restituire diciamo riattribuirlo al patrimonio della Grecia e così è stato fatto quindi in questa maniera diciamo questo apre la pista per tutta un'altra serie di possibili restituzioni e che ci è arrivato a noi di clamoroso che ci hanno restituito allora questo i carabinieri lo sanno bene le loro database ci sono spesso ovviamente perché per esempio negli Stati Uniti c'è in qualche modo una figura leggendaria no? dal punto di vista proprio delle forze dell'ordine certo c'è il colonnello Bogdanos della procura distrettuare di Manhattan a New York che credo anche perché sia di origini greche è molto sensibile al tema lui proprio dirige tutte le operazioni legate Bogdanos è il nostro uomo a Lavana proprio si può dire perché aiuta moltissimo i carabinieri e infatti è complessa anche lì la legislazione americana essendo vari stati però lui dice se il reperto anche se il reperto ovviamente è a Los Angeles non può essere di competenza di New York ma lui dice se per caso è passato anche per un solo giorno da qui è di mia competenza e lui su quello opera tant'è che grazie a lui abbiamo avuto di recente decine decine centinaia di reperti ma ne voglio ricordare soprattutto uno questo gruppo straordinario di Orfeo e le Sirene che è un gruppo in terracotta a grandezza quasi naturale con il mitico appunto personaggio Orfeo che suona e davanti a lui ci sono le Sirene anche loro in atteggiamenti musicali che era conservato al Getty Museum e proveniva molto verosimilmente dall'area di Taranto lo dice lo stile lo dicono anche dati che sono in possesso dei carabinieri e questa restituzione è venuta proprio grazie a lui tant'è che brevemente racconto questo aneddoto molto simpatico a un certo punto appena mi sono insediato come direttore generale museo ho ricevuto una delegazione del Getty che mi ha molto sorpreso erano tutti i vertici del Getty venivano da me a dire che volevano restituire volontariamente il gruppo e io quindi con grande sorpresa vado dal ministro allora il ministro Franceschini vengono da noi però in contraccambio vogliono fare una dichiarazione comune in cui un conferenza stampa in cui diciamo che la grazia è la collaborazione fra i due musei e poi riaprire anche i rapporti di collaborazione perché il ministro Franceschini tra l'altro ribadito e anche inasprito anche dal ministro San Giuliano adesso la decisione di non avere rapporti di scambio o anche collaborazioni culturali con musei che hanno delle pendenze con noi e quindi loro volevano riaprire questa collaborazione io poi ero così un po' ingenuamente entusiasta non avevo capito ma siamo stati messi poi sulla strada dall'allora generale del nucleo tutela c'era Bogdano che aveva fatto già una stava procedendo alla confisca quindi loro volevano arrivare prima della confisca a restituire per la reputazione ovviamente ma non siamo collegati sulla rete per vedere la faccia di Bogdano no non so peccato capitano vedo una restituzione la venere di Cirene la venere di Cirene e quindi alla fine è tornato è tornata la cosa però ancora più divertente è che poi quando mi chiamarono dal Ghetti diciamo beh allora facciamo un comunicato in che senso dicendo che la nostra collaborazione ha cambiato un po' le condizioni diciamo è un ritorno coatto non più spontaneo però ancora abbiamo delle pendenze col Ghetti che il famoso atleta di Fano anche lì opera che è stata recuperata nelle acque di Fano che il Tribunale Italiano ha dichiarato essere italiano e quindi deve essere restituzionale d'Italia ma loro ancora non cedono perché appunto vanno appello alla loro legislazione come siamo messi quindi in tal senso io volevo chiedere capitano e nel frattempo volevo chiedere come si struttura la vostra unità o sì allora intanto mi riallaccia a quello che stava dicendo il direttore adesso questa figura mitica di Bogdanus nonostante io sia arrivato da poco in questo settore l'ho sentita nominare appunto come dice lei come il nostro uomo all'Havana e mi attacco anche al discorso sulla diplomazia culturale che faceva che chiaramente è in capo al ministero e al comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali costituito da esperti giuridici del settore dei beni culturali dove è inserito anche un ufficiale dell'arma dei carabinieri del tutela patrimonio culturale l'arma fornisce degli elementi informativi in merito alle opere da poter far rientrare attraverso la diplomazia culturale quindi attraverso accordi extragiudiziali e fornisce anche tutta una una serie di contatti con omologhe polizie estere magistrati esteri con cui collaboriamo normalmente quindi diciamo siamo in un certo senso dei facilitatori e a questo proposito volevo dire che ho saputo che Bogdanus è stato in Iraq con diversi nostri ufficiali quindi ha una conoscenza diretta e personale e questo chiaramente aiuta molto nella risoluzione di situazioni che sembrano un po' incagliate dal punto di vista giudiziario o della cooperazione internazionale torniamo invece a come è costituita la sua unità chiamiamola così o ci dico ma allora sì avevo preparato delle direi che forse si appesantisce è sicuro perché anche un po' di appesantimento sì no ho visto sì allora eccolo qua il 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 comando a tutti la patrimonio culturale nasce il 3 maggio del 69 quindi ben un anno prima rispetto alla convenzione dell'unesco che invitava i paesi membri a dotarsi di risorse strumenti mezzi per la tutela del patrimonio culturale siamo stata la prima polizia ad occuparsi in maniera esclusiva del settore dei beni culturali questo ci ha consentito di avere un vantaggio che ancora manteniamo manteniamo come accennavo prima grazie a questo database allora costituito nel quale sono contenute tutti i dati relativi a opere d'arte illecitamente sottratte dal 2006 con decreto del ministro dell'interno l'unica forza di polizia ad operare nello specifico comparto di specialità quindi la tutela dei beni culturali e pertanto funge come polo di gravitazione informativa e di analisi anche a beneficio delle altre forze di polizia quindi la guardia di finanza la polizia le varie polizie locali che dovessero ricevere delle denunce di furto o quant'altro in materia di beni culturali le comunicano a noi che provvediamo all'inserimento nel database di cui poi dirò la dipendenza è funzionale dal ministro della cultura e il reparto è articolato su una struttura centrale comandata da un generale che ha a sua disposizione un organo di staff rappresentato come ufficio comando un reparto operativo suddiviso in sezioni che si occupano di attività investigativa nei vari settori quindi archeologia antiquariato falsificazione e arte contemporanea e in fase di allestimento una quarta sezione cyber ovviamente cerchiamo di adeguarci ai tempi e una struttura territoriale suddivisa in due gruppi uno per il centro nord Italia che ha sede a Monza e una per il centro sud che ha sede a Roma da questi gruppi da ognuno di questi gruppi dipendono i nuclei tutela patrimonio culturale io comando quello di Monza che ha competenza sull'intera regione Lombardia normalmente le competenze sono di ogni nucleo regionale o interregionale nel senso qualche nucleo ha la competenza su più regioni grazie vogliamo no qui possiamo andare avanti se c'è qualche questa è la legge cui accennavo prima sono gli strumenti che utilizziamo vogliamo vedere magari passiamo accennavo prima le attività le attività che facciamo sono di natura preventiva quindi controlli nei musei nelle biblioteche negli archivi esercizi commerciali di settore controlli sui siti internet per quanto riguarda il commercio i cataloghi delle case d'asta nonché controlli sui siti archeologici attività di contrasto si sostanzia nell'attività di polizia giudiziare come accennavo prima tradizionale quindi le investigazioni volte al recupero principalmente questo il recupero dei beni culturali sottratti poi attività di addestramento in favore di polizie straniere sotto legge dell'UNESCO dell'Unione Europea dell'OSCE abbiamo molteplici collaborazioni con omologhe polizie che in un certo senso contribuiamo a far crescere e abbiamo siamo parte della task force Caschi Blu della Cultura che è un'unità inserita nel Ministero della Cultura di cui fanno parte carabinieri e funzionari del Ministero della Cultura che interviene in tutte quelle zone diciamo destabilizzate destabilizzate o da calamità naturali o da eventi bellici dove sia necessario censire mettere in sicurezza e possibilmente recuperare i beni culturali di quel paese in ultimo forniamo il nostro contributo alla diplomazia culturale grazie a proposito di sicurezza e a proposito anche della mostra che c'è qui dietro c'è Exposure i sistemi di sicurezza le TEC tutto ciò che si fa i sensori tutto ciò che si fa per proteggere l'opera chiamiamola così influisce sulla visione dell'osservatore influisce sulla visione dello spettatore e quindi in tal senso la vetrina è uno schermo un sistema di protezione o è a volte una cattiva idea questo è un tema molto diciamo proprio di museologia e per noi che ci occupiamo di museo è un tema fondamentale io devo dire al di là dell'aspetto che è fondamentale su cui quindi non si discute la vetrina mette in sicurezza alcune opere che sono molto fragili e che quindi soffrirebbero sarebbero in pericolo se fossero esposte prive di questa protezione da un lato quindi per possibili attacchi diciamo antropici pensiamo anche i musei sono stati oggetto di attenzione da parte degli ambientalisti come sappiamo con tutta una serie di attività di solito contro i vetri che proteggevano le opere ma al di là di questo la vetrina ovviamente è fondamentale per esempio per ceramiche vasi molto fragili vetri ma allo stesso tempo è fondamentale perché come giustamente tu dicevi per per proteggere l'opera dagli agenti atmosferici alcuni oggetti alcune opere non possono essere esposte alla come dire al contatto anche con l'alito diciamo dei visitatori e devono alcuni bronzi sono sono delicati pensate ai bronzi di Riace per entrare a visitare i bronzi di Riace bisogna come dire prima fare un transito per una una stanza per alcuni minuti e poi si può accedere a vedere i bronzi quindi c'è sicuramente questo aspetto che quindi è prioritario in questo la tutela è fondamentale però dall'altro punto di vista la vetrina in fondo aiuta anche nelle narrazioni perché la vetrina significa anche disporre il pezzo in una determinata maniera corredarlo di indicazioni metterlo all'interno di un allestimento e di un'architettura diciamo di interni che aiuta il discorso che il curatore vuole proporre non c'è una maniera di raccontare una storia non c'è una sola maniera di raccontare un oggetto gli oggetti hanno biografie complesse e quindi è spesso il curatore in dialogo con le comunità molte volte soprattutto se si tratta di oggetti etnologici va fatta quindi in maniera dialogica e non in positiva va fatta però è un discorso che si crea si costruisce e lì la vetrina io credo tutto sommato aiuti aiuti nella disposizione aiuti nel creare un ensemble che può avere un senso sia estetico che concettuale però è anche vero che in determinati tipi di museo anche per una questione banalmente dimensionale però la vetrina è stata utilizzata in maniera sistematica tale quasi da rappresentare l'idea stessa di museo etnografico di museo archeologico mentre in altri ambiti si osa molto di più però io per esempio apprezzo molto le vetrine fatte da Cipri e Filippo e Mudec sono belle sono belle sono oggetti le vetrine possono essere anche delle opere d'arte quelle sono belle e hanno un significato perché lì l'esposizione di oggetti etnografici all'interno di quelle vetrine che hanno quel sapore vintage richiama gli allestimenti precedenti e come venivano spesso esposti questi oggetti in maniera tassonomica tipologica ripetitiva questo è un discorso fa parte del discorso certo poi ci sono alcuni casi in cui ci sono le vetrine orribili ipertrofiche esagerate alcuni allestimenti di anni 80 li butterei tutti al macero perché sono veramente e la vetrina pesante adesso si usano spesso vetrine trasparenti si usa molto la parte molto leggera e devo dire possono essere anche avere un aspetto positivo poi è chiaro che anche a me piacciono le statue piacciono fuori dalla vetrina alcuni vasi li potrebbero esporre fuori però ci deve essere un equilibrio ovviamente come in tutte le cose però parlando sempre di vetrine parlando di musei mi piacerebbe arrivare a parlare del furto nei musei a un certo punto con Carlo e con Bianca Ravecchia e le colleghe abbiamo pensato di invitare un ladro tale Pipino un signore veneziano tale Pipino ladro gentiluomo il quale ha rubato un canaletto da Palazzo Ducale chiedendo poi un riscatto e faceva il ladro si è fatto anche un sacco di galera perché era recisivo era recisivo perché questo è un punto particolare cioè i ladri scusate i furti nei musei sono furti immagino su commissione anche perché sarà ben difficile reinserire nel mercato secondario opere stranote e quindi chi sono chi sono i ladri chi commissiona questi furti che tipo di se c'è che tipo di monitoraggio c'è su furti museali non so chi dei due vuole il capitano chiedo il capitano qui in questo perché qui spesso c'è proprio la malavita pensiamo a Palermo il famoso Caravaggio il famoso Caravaggio la notificazione Caravaggio che non sappiamo che fine ha fatto sì certo ma diciamo che i beni culturali hanno un valore che per gli appassionati è inestimabile perché è il valore culturale il valore l'identità però hanno anche un mercato un lecito e illecito quindi hanno anche un valore di mercato è chiaro che qualsiasi oggetto che ha un valore diventa appetibile per chi delinque ora nello specifico anche più recentemente c'è stata la rapina di opere d'arte al museo di Castelvecchio una decina di anni fa a a Verona in quel caso il il comando tutta la patrimonio culturale ha recuperato le opere d'arte se non erro in Moldavia era un furto studiato su commissione ma non non immaginiamo la spectre delle opere d'arte erano dei delinquenti che hanno provato a fare il colpo e a rivendere magari nei paesi di origine i beni culturali quindi aggiungo una cosa sì io aggiungerei anche che ci sono ovviamente c'è la malavita c'è può esserci la mafia però ci sono anche casi come dire sono molto vari pensate al caso del British Museum delle cronache più recente dove era l'interno era il curatore senior delle collezioni che vendeva in ebay i prodotti i manufatti e anche questo è stato uno scandalo nazionale internazionale tant'è che il direttore del British si è dimesso si è dimesso ma è lì e quindi spesso anche in passato accadeva che fossero proprio all'interno o quantomeno conniventi all'interno c'è spesso qualcuno all'interno anche anche nella questione di Castelvecchio c'era coinvolto un custode qualcuno che ingolosisce scusa all'esposizione viene accompagnata una rivista che si chiama Moodle United che è appena uscita e tra le mille cose che ci abbiamo messo dentro c'è anche la scena cinematografica per chi la ricorda generazionalmente di Top Capi cioè quella scena straordinaria in cui il ladro si cala con una corda d'acciaio scardina la vetrina e ruba il gioiello centrale naturalmente poi viene in mente banalmente diabolica eccetera eccetera c'è stato un furto nel quale vi è dovuto riconoscere l'incredibile intelligenza della macchinazione che dici guarda questi io più che nei musei il furto dove c'è l'intelligenza della macchinazione lo vedo negli scavi clandestini faccio un esempio questi scavi che abbiamo fatto con la procura di Torre Annunziata nella villa di Civita Giuliana dove abbiamo recuperato la biga ci siamo accorti che erano talmente ramificati e complessi che c'era dietro un sistema anche geniale di operazione perché i clandestini partivano da un ambiente della loro casa un bagno dove si era stato fatto un pozzo di 4 metri il pozzo di 4 metri che scendeva 4 metri e di lì partivano con dei tunnel più bassi di un metro quindi si andava dentro a coccolati scavati sotto 4 metri di materiale vulcanico e si ramificavano per circa 60 metri ma con vari diverticoli proprio perché entravano beccavano la struttura andavano lungo le pareti vedevano se era affrescato riuscivano a staccare anche l'affresco a prendere gli oggetti e poi tra l'altro siccome il materiale vulcanico è fragile i lapilli smottano la cenere si può cedere c'era tutto un complesso lavoro di rivestimento di questi tunnel col cemento e poi con un sistema anche di illuminazione che andava avanti per 60 metri quindi raffinatissimo devo dire anche con una certa intelligenza e poi fare questo cercando di non distruggere poi l'oggetto ricordate no ma sì certamente sono delle vere e proprie associazioni criminali quelle che si occupano dello scavo e poi della rivendita molto spesso all'estero soprattutto di reperti archeologici sono numerose le indagini che sono fatte nel corso degli anni che hanno ricostruito tutta la filiera dallo scavo calandestino alla ricettazione al passaggio successivo che è il ricettatore che ha contatti con l'estero alla ripulitura del bene culturale e la vendita all'estero quindi grazie supposto che le opere che sono state prese in seguito agli interventi coloniali per esempio italiani siano tra virgolette rubate questa è una terminologia sulla quale si può discutere a lungo ma comunque sicuramente sottratte quali sono in qualche modo i meccanismi di informazione o di sensibilizzazione che vanno adottati così come anche il MUDEX si sta ponendo questo problema altri musei italiani ed internazionali cioè in che modo lo sguardo dell'osservatore del visitatore può continuare a vedere quegli oggetti ma conoscendone in qualche modo la traiettoria e la storia tutto dipende dal linguaggio che si costruisce intorno dalla narrazione gli oggetti non sono sono muti ma li diamo noi siamo noi a dare la parola agli oggetti quindi quelle opere se tu le metti semplicemente in una vetrina o su una parete di un museo con una semplice diascalia in cui ti dice il titolo ti dice la provenienza è l'anno in cui è stato fatto è stato recuperato eccetera non dici nulla invece è la narrazione che c'è dietro che deve essere fatta in maniera adeguata deve essere fatta come dire non cancellando l'esperienza che ripulendola in maniera con senso di colpa da un passato scomodo ma raccontandolo perché sia anche monito per il presente e che insegni al presente e faccia capire come certe cose certi oggetti sono portatori anche di violenza i bronzi del Benin che sono fra il Humboldt Forum e il il Kebran Lee o anche in Inghilterra questi sono sfrutto però del saccheggio sistematico fatto dalle truppe coloniali del palazzi reali del Benin quindi è stato proprio un saccheggio incredibile tant'è che proprio da lì la Francia si è iniziata con Macron a porre il problema e sono quelli anche più avanti nelle restituzioni ma anche adesso Berlino proprio perché quello è frutto di violenza coloniale e quando c'è un libro di un scrittore inglese che ha intitolato proprio su questi oggetti di provenienza coloniale che ha chiamato dei britici che è intitolato The British Museum che è proprio dove denuncia questa attitudine coloniale anche nell'esposizione cioè le esposizioni sono fatti delicati devono essere fatti oggi non le si può più fare in maniera asettica senza una riflessione e senza una denuncia e il museo delle civiltà a Roma con cui il Mudec ha strettissimi rapporti come so per esempio ha riallistito una scomodissima sezione del museo che è l'ex museo coloniale che era a Roma una grave infatti è stato in deposito fino a due anni fa anzi un anno fa perché nessuno si voleva sporcare le mani invece il direttore Andrea Evigliani ha fatto un'esposizione io ho trovato geniale a parte ben fatta molto bella però ha esposto tutto oggetti che vengono appunto presi dalle colonie oggetti arte prodotta in quell'epoca dagli italiani o usata in quell'epoca dagli italiani eccetera come l'ha fatta intavolando un discorso serio con le comunità africane a Roma e in Italia con i discendenti che alcuni hanno ancora memoria ovviamente e anche dell'uso di quegli oggetti addirittura c'è una vetrina molto colpita con un oggetto che è in ceramica che viene appunto da i nostri reperto coloniali e a fianco gli è stato esposto uno che è un oggetto identico è stato donato da una discendente di la sua nonna veniva era di lì aveva lo stesso oggetto in casa per far capire anche come possono avere delle biografie diverse gli oggetti e quindi però il linguaggio è molto chiaro l'esposizione racconta questo episodio non si cancella il passato si deve però raccontare in maniera adeguata alla sensibilità del contemporaneo il problema che però non è solo una questione di narrazione perché c'è anche il discorso dell'uso di certi oggetti perché a volte sono oggetti appunto cultuali eccetera per cui non è sufficiente fare una narrazione e quindi qui si creano paradossi perché ad esempio in Canada c'è il caso famoso di un museo che sta lavorando sulla conservazione di determinati oggetti che poi presta alle comunità di first people che prendono in prestito i loro stessi oggetti per usarli per delle cerimonie annualmente quindi c'è anche una sorta ritornando al discorso di chi ruba chi di paradosso anche sulla proprietà legata anche poi al possibile uso io non ho idea di che ora si è fatta ma va benissimo domande dai solita scena considerato che il dottor ce n'è una vai bisogna parlare col microfono scusate per questo tutto questo palleggio perché stiamo registrando io ho una domanda per il comandante volevo capire se c'è una sorta di tra virgolette scadenza temporale oltre la quale diciamo cessano le indagini in qualche modo rispetto degli oggetti che non si trovano più oppure rimane aperto virtualmente per sempre la ricerca sì assolutamente la ricerca continua grazie all'inserimento nella banca dati dei beni illecitamente sottratti dell'opera d'arte in qualsiasi momento questa dovesse essere individuata in qualsiasi parte del globo direi può e deve essere recuperata poi da un punto di vista tecnico giuridico l'individuazione dell'autore del furto piuttosto che della recettazione è soggetta alle norme che regolano la prescrizione dei reati ecco quindi però il bene sicuramente viene recuperato una rassicurazione io invece avevo una domanda per il professor Rosanna volevo sapere se l'Italia sta pensando a una legge per la restituzione dei beni non europei conservati in Italia che eventualmente possono essere reclamati da qualche stato estero siamo in una fase preliminare c'è un come forse accennavamo prima c'è un tavolo incardinato al Ministero della Cultura che appunto discute sistematicamente sulle restituzioni sia sugli oggetti che entrano che quelli che dovrebbero uscire e poi presso la direzione generale del museo abbiamo fatto un gruppo di lavoro che è presieduto da Cristian Greco del Museo Egizio di Torino con esperti di storia storia dell'arte di vari ambiti di storia coloniale di storia ebraica quindi perché c'è anche il tema quello come potete immaginare che non è di poco conto e quindi questo tavolo è nato dall'esigenza che io avvertivo di conoscenza perché prima di fare una legge devi conoscere noi non avevamo idea di che cosa avessimo per cui prima c'è stato una discussione anche per avere un framework come dire concettuale su cui orientativo poi è stato fatto un questionario distribuito a tutti i musei nazionali per capire quello che abbiamo devo dire è stato faticoso perché ovviamente questo significa spesso scavone depositi recupero di memorie ormai scomparse alcuni poi hanno un materiale enorme come appunto il museo delle civiltà con due milioni di oggetti molti sono dell'esposizione universale l'esposizione del 1911 per l'unità d'Italia dove si raccolsero oggetti che venivano da tutte le regioni italiane quindi è molto immateriale diciamo di tradizioni e tradizioni popolare delle varie regioni italiane ma ovviamente c'è moltissimo materiale che viene da oltreoceano dalle Americhe dall'Africa eccetera quindi è stata complessa questa fase di ricognizione però è stata anche una fase di sensibilizzazione per i direttori di musei perché non tutti hanno la sensibilità che ha la direttrice del Mude che trovandosi al Mude che ha confrontarsi diciamo quotidianamente con questi problemi spesso sono collezioni il museo archeologico di Napoli ha collezioni archeologiche poi ha anche un lascito che viene appunto dal Brasileo oppure la biblioteca nazionale di Napoli ha tutta la collezione coloniale dei duchi di Aosta che è straordinaria cioè qual era quella fase delle piume? il museo delle civiltà ha questa collezione la collezione più grande di piume brasiliane tra l'altro dopo l'incendio del museo famoso del Brasileo no quelle nostre sono praticamente le uniche ormai ci sono dei copricapi straordinari in piume cosa impressionante ovviamente e lì ci sono anche delle richieste di restituzioni anche perché non ce le hanno più le loro però anche su questo allora quindi c'è il tavolo che lavora e poi il discorso diventa politico noi facciamo il lavoro tecnico ovviamente poi la decisione politica se devo esprimere il mio giudizio io sono per restituzioni mirate nel senso se noi abbiamo cento copricapi con piume nelle culture brasiliane e loro non ne hanno più uno noi dobbiamo qualcuno possiamo restituirlo per esempio la Danimarca dei Tupinambà esistono questi dieci mantelli tutti in Europa la Danimarca ne ha due e adesso ne sta restituendo uno quindi c'è proprio c'è anche un discorso oggettivamente di giustizia distributiva e c'è anche molta roba in giro abbiamo altre domande sì Bianca volevo chiedere una cosa sulla narrazione perché proprio perché lavoro in questo museo noi parliamo molto di questi argomenti ma le narrazioni bene o male le facciamo sempre noi noi inteso come un gruppo europeo bianco cresciuto con una certa cultura tipicamente occidentale e anche infatti i nostri allestimenti la nostra conservazione poi cerchiamo come dicevamo che fa anche il museo delle civiltà di procurare un incontro con chi arriva da quei paesi o ha memorie in qualche modo di paesi di origine però lo facciamo sempre come una specie di piccola apertura piccola concessione cioè siamo sempre noi che deteniamo quel potere lì tant'è che molte volte si dice anche è bene in fondo non restituire perché chissà come tratterebbero in quei paesi o in altri paesi come tratterebbero questi oggetti quindi io mi sento sempre un po' su quel crinale di un po' fatica a stare in equilibrio tra quelle che sono chiaramente delle funzioni occidentali e quello che è un riconoscimento di un'alterità anche conservativa anche come dire diritto a non a non preservare o non tenerli come le terremo noi come il tema ovviamente è un tema enorme io credo che noi ci dobbiamo sforzare sempre di più di aprire il museo aprire cioè sforzare non rimanere sul crinare ma andare in discesa giù verso il crinare che ci porta verso le connessioni la connettività appunto l'apertura verso le comunità ma un altro aspetto secondo me fondamentale è questo persone come la nostra direttrice del MUDE che è il direttore del museo delle civiltà che sono esperti anche di arte contemporanea penso possano essere le persone giuste per fare un discorso del genere bisogna invitare gli artisti di quelle culture che devono loro anche proporre di linguaggi io direi che in queste collezioni ci deve essere sempre delle opere contemporanee come la nostra mostra Exposure sta facendo in cui è demandato anche agli artisti di riflettere e proporre delle riflessioni io credo questo sia importante per questo io sono stato quando come sapete per i musei nostri autonomi di solito c'è una commissione che sceglie una terna e poi il direttore generale sceglie una terna il museo delle civiltà interna c'era Andrea Vigliani non ho avuto un dubbio perché ci voleva solo un occhio del contemporaneista lì per riflettere in maniera adeguata su questo materiale così straordinario perché è un museo con molte anime c'è la parte quella coloniale la parte delle culture dell'Oriente o delle americane e c'è la parte etnologica etno antropologica demo etno antropologica sulla civiltà contadina eccetera se scegli un archeologo ti fa il museo archeologico se scegli un antropologo ti cura il museo antropologico e se scegli un contemporaneista fa sì che quel materiale così complesso e scottante diventi contemporaneo come deve essere sì sì no no grazie concordo però devo dire grazie anche al lavoro enorme dei conservatori la nostra Carolina Orsini eccetera che da anni fanno un lavoro sulla provenance molto serio per cui sì lo sguardo del contemporaneo giustamente però come dire complementare ad un'analisi sulle questioni etiche di provenienza eccetera eccetera perché l'uno senza l'altro ovviamente sarebbe una situazione zoppa direi che con questo possiamo forse chiudere il nostro chi ruba a chi lanciando il come dire il bastone il baton alla prossima che sarà sulle questioni dell'esposizione di resti umani ma non abbiamo ancora definito una data ce l'abbiamo 16 maggio 16 maggio 16 maggio benissimo grazie buonasera con Mario Calabresi Cristina Cattaneo e Guido Guertoni e il podcast esatto ah giusto bravissimo siamo siamo veramente naif di tutto questo dei nostri incontri nel nostro public program abbiamo anche un abbiamo dei podcast quindi potrete poi risentire gli incontri poi come diceva Carlo è appena uscito l'ultimo numero di Mudeck United che trovate anche nel bookshop e che approfondisce tutti questi temi perché la rivista in qualche modo ci serve proprio ad amplificare quello che trattiamo nella mostra exposure grazie grazie a tutti